Nel 2018 nel Pescarese sono stati 10.894 i delitti registrati, questi i dati resi noti dalla Questura di Pescara rispetto alle attività svolte in provincia fino al 30 di novembre. In totale a Pescara e provincia nel 2018, come detto, sono stati denunciati complessivamente 10.894 delitti rispetto ai 12.613 dell'anno precedente con un calo del 13,63%, due gli omicidi, quello del giovane Alessandro Neri l'8 marzo e quello di Salvatore Russo il 25 di aprile, due i tentati omicidi. Le denunce per lesioni dolose sono state 330 per violenza sessuale 26, in diminuzione rispetto al 2017 scippi e borseggi, calo generalizzato anche per i furti, in abitazione 759 contro gli 834 dell'anno precedente, negli esercizi commerciali 462 rispetto a 541, delle auto in sosta 482 rispetto a 564, dei ciclomotori 198 rispetto a 212 e di auto 446 rispetto a 627. In calo anche le rapine in abitazione sono state 8 nel 2018 e 10 nel 2017, in banca una nel 2018 e 6 nel 2017, agli uffici postali 2 rispetto ai 6 dell'anno precedente e negli esercizi commerciali 18 rispetto ai 21 dell'anno precedente. Relativamente al comune di Pescara i delitti denunciati in totale sono stati 6.637 in calo rispetto ai 7.583 del 2017 con una diminuzione del 12,48%. Nella lotta al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente sono stati sequestrati 0,6 kg di cocaina contro i 2,30 kg dell'anno precedente e 0,8 kg di eroina rispetto ai 0,3 dell'anno precedente. Sequestrati nel 2018 5 kg di Ascish e 9 di Marihuana, rilevati 419 incidenti stradali, nel 2018 sono stati effettuati dalla squadra volante per tutto il territorio 5.597 interventi in calo rispetto ai 6.213 del 2017. Infine, fra le misure di prevenzione effettuate spiccano i 18 d'aspo inflitti rispetto ai 13 dell'anno precedente e le persone denunciate per maltrattamenti in famiglia, 15 rispetto ai 45 del 2017.